Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come non salvare le credenziali di Steam su questo computer ovviamente se stai usando Steam su un altro computer pubblico e non vuoi salvare le tue credenziali c'è un metodo per non salvarle quindi in questo caso per esempio se tu fai l'accesso se ne so su un altro pc pubblico il tuo account di Steam e non vuoi salvare le credenziali tue ti consiglio di andare su account non salvare le credenziali dell'account su questo computer come puoi vedere qua sotto riscritto questa opzione consiglia se esusi i computer pubblici ok quindi in questo caso mettete su non salvare le credenziali e premete ok ma questo è per le persone che non vogliono salvare le proprie credenziali su altri computer quindi se voi avete un proprio computer vostro non ve lo consiglio proprio quindi è un vostro computer non fate proprio niente quindi le credenziali vanno salvate solamente se il vostro pc è vostro ok quindi in questo caso grazie a tutti per questa visione ragazzi il video finisce qua un piccolo tutorial su come non salvare le credenziali dell'account su questo computer e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao